Niccolo Brilli, Vittorio Tigli, Martín Frumiento, Jacopo Ferri, Matteo Nardi, Vittorio Ruggi, Federico Fabianelli e Samuel Dervisci. Sono loro i piccoli eroi di un fine settimana di sport e condivisione che si è tenuto a Cesenatico, la finale sabato 27 aprile. Si è trattato del settimo torneo Mirabilandia Festival dove erano presenti ben 144 squadre da tutta Italia. I ragazzi del centro sportivo Vitiano Primi Calci 2016 si sono distinti vincendo ben 6 partite su 6, alzando quindi il trofeo al cielo con 18 punti e sorpassando lo Zola Calcio vincitore del torneo 2023. Arrivati a Cesenatico al loro primo torneo nazionale hanno quindi riportato a casa la vittoria ma soprattutto grandi emozioni ed esperienza. Un grazie speciale ai loro mister Carlo De Palma, Claudio Brilli e Matteo Brilli. Grazie a tutti.